Ciao a tutti ragazzone e benvenuti in questo nuovissimo video di Clash Royale e oggi come avrete letto dal titolo potenzieremo il tronco precisamente al livello 11 infatti io già da un bel po' di tempo avevo due tronchi su quattro e con l'aggiunta dei token quindi degli scambi delle leggendarie ormai è davvero facilissimo potenziare le carte a maggior ragione quelle leggendarie però io sono talmente sfortunato che non ho mai trovato un token neanche un token comune che si trovano non so all'interno delle ricompense delle guerre tra clan delle sacche che già ho aperto in un video e non ne trovo neanche uno pure nello shop ma onestamente io non lo shopperò mai però fortunatamente ho scambiato ben due leggendarie quindi due tronchi con due membri del mio clan due cocavi del mio clan ovvero Fast Corporation e Melissa che ringrazio e quindi sono riuscito a potenziare cioè riuscirò a potenziare in questo video il tronco a livello 11 perché ne ho racimolati altri due qui vi compariranno anche le clip degli scambi allora stiamo facendo la guerra va bene doniamo le carte di qua ovviamente se volete entrare nel nostro clan Kazutan Crew è il nome ragazzi mi raccomando passateci 4300 più trofei è inutile che lo chiedete non possiamo abbassare i trofei se non l'avete ancora fatto lasciate tutti quanti un bel pollicione in su e commentate qui sotto per ricevere il cuoricino e quindi siamo pronti a potenziare il tronco 20.000 di oro sto spendendo un botto di oro per fare le guerre perché c'è un botto di carte a livello bassissimo cioè le uniche carte di livello alto sono queste qui che ho nel deck per farvi capire il resto sono a livello basso e alcune le devo potenziare per forza per fare le war altrimenti sono inutilizzabili quindi siamo pronti con questi 20.000 di oro più 26 di danno ad aria e più 93 di danno alle torri della corona ottimo e andiamo a potenziare ecco qui tronco a livello 11 che sarebbe il livello 3 dello scorso aggiornamento per chi ancora deve capire come funzionano i nuovi livelli quindi davvero tanta roba raga ottimo così prossimo step a livello di leggendarie è potenziare il minatore a livello 11 e la principessa a livello 12 anche se ci vorrà un botto di tempo però sono più propenso a potenziare il minatore a livello 11 così abbiamo tutti quanti ad un livello equo quindi ragazzoli a questo punto ci facciamo una partitozza per testare questo tronco di livello 11 che non cambia chissà che cosa però comunque fa un pochettino più danno è pur sempre utile torre infernale subito stiamo giocando contro il livello 11 raga sono tornati i pipistrelli cioè incredibile li sto trovando in ogni partita principe forse li ho piazzati troppo presto questi qui però tu mi sprechi le frecce e io ti piazzo l'orda di scheletri a meno che non hai la zap ma mi sa di no perché se hai le frecce non c'hai pure la zap no quindi ci teniamo la zap lui piazza la valchiria interessante però io come te la contrasto adesso sta valchiria non lo so proviamo a fare in questo modo raga la respingiamo un pochettino ci parte con un minatore ci parte con un domatore e dobbiamo contrastarlo per forza con il minatore zap ok sbagliata la zap ok raga non sto concentrato kazusan per favore concentrati ti prego allora la principessa va all'attacco io ti piazzo gli sgherri anche se tu adesso vorrai mettermi le frecce non mi conviene partire con il domatore per adesso voglio vedere lui prima come si comporta ok stregone ho fatto bene a non partire con il domatore e di qua raga devo fa ah la valchiria valchiria ok lo stregone va giù è contro la valchiria raga per forza torre infernale però adesso sarà dura contro il domatore lui ci piazza il principe la mia paura più grande soprattutto il domatore anche se adesso lui ha le frecce però una volta che mi mette le frecce ok posso partire posso partire di qua mi tengo la zap mi piazzerà lo stregone no scheletrini ok che non sono un problema raga domatore full vita più scheletrini sotto torre ottimo così in altro colpo va bene così 252 di hp abbiamo ribaltato una partita che sembrava persa praticamente quindi torre infernale di qua tronco tronco devo piazzare tutto quello che ho proprio all all in all in perfetto raga gli scheletrini vanno sotto torre di qua di qua posso fare in questo modo zap aia 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 questa la subiamo questa la subiamo un tot però di qua posso fare così mi devo tenere l'orda di scheletri perché il domatore suo lo dobbiamo contrastare perfetto quel barbaro scelto non so dove è andato a finire va bene però va giù 7 6 5 4 3 2 1 e ce la portiamo a casa ottimo così prima partita del giorno portata a casa a questo punto io non sono contento e voglio la seconda battaglia che perderemo sicuramente ma sono dettagli infatti carissimo R Y ciao livello 13 contro livello 11 ora spiegatemi io come dovrei fare forse è il deck domatore credo vediamo esatto deck domatore è proprio qui con noi però ha il domatore basso devo dire la verità domatore no ok che non va la connessione domatore livello 11 non è altissimo cioè ce l'ho più alto io tornado tornado non riusciamo a dare un altro colpo questo qui lo devo contrastare per forza con l'orda di scheletri in messa centrale può risultare molto utile ne rimangono zero in vita ok stavo per dire due ma ne rimangono zero in vita però adesso lui ci parte col domatore vediamo se è riuscito a ciclare no infatti ce lo piazza adesso oh 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 amica valchiria ma salvi amica valchiria domatore gira di qua che poi buttiamo giù anche la valchiria spero non abbia una zap dovrebbe andare anche giù la valchiria tecnicamente invece no piazzo gli sgherri avrei dovuto piazzarli prima spero di riuscire a sopportare non mi conviene altrimenti vado a sprecare troppo il esil tanto lui ci piazza il boia ok ho sbagliato a piazzare gli sgherri forse potevo subirmi li danni però raga purtroppo lui ha la torre con molti hp essendo un livello 13 quindi facciamo in questo modo voglio subire i danni sul domatore zappo ok avrei dovuto comunque zapparli questi qui e raga di qua per forza tronco ha il deck più veloce del nostro torri molto più potenti ma ovviamente clash royale mi va a mettere un livello 13 contro sembra scontato cioè raga guardate qui come cicla il deck l'aveva appena piazzato il boia per fargli capire vediamo ora cosa piazza devo andare per forza di torre infernali devo giocare un po' inverso esatto infatti lui adesso fa così quindi tecnicamente non dovrebbe avere tutto su elisir però cioè lui riesce a difendersi con 4 di elisir mi sembra ci piazza pure il domatore eee facciamo in questo modo ok 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 domatore ancora in vita piazziamo un minatore piazziamo un minatore ok il boia mi colpisce il minatore lui mi fa di qua in questo modo eee principessa però lui adesso ci piazza un domatore io devo fare per forza prima così guardate faccio così questo qui dovrebbe andare giù però comunque ci dà il colpo e purtroppo questa qui non ce la portiamo a casa ma era davvero difficile ha un deck molto potente non so cosa ci faccio un livello 13 a 4500 trofei non chiedetemelo e ragazzuoli dopo una vittoria e dopo una sconfitta ci vuole per forza la terza battaglia giappo cinese per favore pregate per caso lasciando un pollicione in su quindi se questa qui la vinciamo ne usciamo vincitori se la perdiamo ne usciamo perdenti mi dispiace mentre se pareggiamo va bene neutri diciamo neutri raga per favore like per caso se hanno commentato qui sotto entro i primi 30 minuti per ricevere il cuoricino è tragica è davvero molto tragica inoltre caso san raffreddato non riesce a giocare stra bene però queste qui non sono scuse mi dispiace raga guardate qui quel moschettiere full vita sotto torre cosa ha combinato sono tentato di fare in questo modo infatti lo faccio facciamolo ci teniamo anche la zap anzi anzi aspetta 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 perché io faccio così lo stregone va giù e devo mettere gli sgherri dai gli sgherri la valchiria fa male ci dà minimo due colpi esatto due colpi di nuovo moschettiere cioè raga cicla il deck davvero in una maniera incredibile tronco lo contrastiamo in questo modo moschettiere con gli scheletrini e avanzano gli scheletrini si no zap parto con il domatore a questo punto anche se lui mi metterà lo stregone credo o la valchiria non so attenzione ha sprecato l'elisir ha sprecato un botto dell'elisir mette lo stregone in ritardo e riusciamo a fare i nostri sporchi danni anche se adesso ci mette la valchiria quindi devo conservarmi la torre infernale raga lo stregone è ritornato in voga in una maniera incredibile cioè da stamattina che sto giocando vedo solamente stregoni moschettieri principi proprio sparati a profusione quindi mi conviene partire con minatore più sgherri andiamo eccola qui la valchiria ci teniamo la zap di assicurazione che non è servita piazziamo la princess adesso non ci resta che difenderci tranquillamente tronco 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 di qua di qua facciamo così la 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 però di qua dobbiamo difenderci ok sgherri ci siamo difesi tranquillamente dal domatore più valchiria 233 di hp possiamo andare tranquilli distraiamo un pochettino la valchiria in realtà mi serviva per far ciclare il deck posso partire con un altro minatore ci teniamo il tronco ok ok ottimo ottimo aspetta aspetta 4 3 2 1 e mi dispiace che non te la porti a casa e io la risatina me la faccio mi dispiace quindi ci avremo questo baolozzo e non troviamo niente io spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un pollicione in su se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale cliccate sulla campanellina e qui in alto nelle schedine trovate il video di clash royale con mio cugino mi raccomando andatevelo a vedere è qui da Casosani è tutto e noi ci rivediamo ad un prossimo video ciao ciao ciao